Sono pronta? Sono carica? Vai, andiamo e oggi vi dimostrerò il mio talento! Ciao a tutti! Eccoci con la seconda challenge di questo nuovo palinsesto. Sono Gobba perché credo che l'inquadratura non funzioni così bene, ma fa niente. Noi adesso andiamo comunque a fare la seconda parte dell'If You Think You Lose Challenge. Questo video lo state aspettando da qualcosa come un anno e anche qualche mese. Come vi ho annunciato, se volete vi lascio qua sotto lì della prima parte nel quale facevo l'If You Think You Lose Challenge. Oggi andremo a fare l'esatto contrario, quindi andrò a prendere un video su YouTube della If You Think You Lose Challenge, ma dovrò cantare e ballare tutte le sigle e se mi dimenticherò qualche passaggio, vedrò. Speriamo che vi divertiate, adesso vado a prendere il video su YouTube e partiamo subito. Proviamo questo di Disney Lover Ariel che metterò qua sotto nell'info box, ma lo vedrete anche in diretta durante il video. Questa è la Sony. Oh, bravissima, sono bella. Noi siamo una banda, sweet, sweet, dolce magia, natura e cristalli, nel cuore e nel canto, sweet, sweet, dolce magia. Questo è Blue Dragon, non lo so, non capire neanche. Solo diventerai, fantastico. Dietro ti leggerà, da un mare ti proteggerà, anche se non lo sai, c'hai un devil che potrà tentarti, se solo non corrai. Un cane è il cielo più blu, col suo copter di bambù, doraemon, 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 doraemon. Ci regali, dei gatti speciali, ma chissà come mai, quando poi ce li dai, siamo sempre in mezzo a mille quali. Io credo in me, nel cuore mio, che non ha amici, io credo in me, e dico addio, ai miei giorni grigi, come un braccio che ha il coraggio di lasciarsi il sole dietro se, io credo in me. Ma questa è quella nuova, dai, mettetemi l'incorregibile, tu sempre. Se tu lo vuoi, tu lo sarai, una di noi. Wix, la tua mano nella mia, più forte ci darà, solo un gesto voleremo ancora. Questa la dedico a Daniele. Allora, forza, lotta, ho detto la parte più bella. Erano belli, erano tutti i canzoni. L'ora da affrontare, e nel corso da provare. L'ora di te, l'aria e l'impaccio, questo è quello come un tatuaccio, che si incide dentro i nostri cuori. Ti trovate fuori i predatori. L'ora di te, l'aria e l'impaccio, il tesoro non è più un miraccio. Ma se il tuo mondo lo ritroverai, allora lo vedrai. Magica è la tua vita, Sabrina, e accanto a te, lui diventa femmese. Magica sei, è la vita, la sprega, la con tutti gli antie consiglieri. Magica è la tua vita, Sabrina. La bagnere del bravo, questa è la da conosco, ho quanti punti che sto perdendo. Non ho un traccio, 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 ho un traccio. Un traccio, si nasconde, uno scontro, lo sa, e non ci sono tre quei, è la storia che prosegue. Vado un po' di tiri, siamo tutti qui, non c'è un traccio più super di così. Traccio, la battaglia è fai, solo tu sai come farai. Tutti non finiranno mai, vengono c'è più sì, gioca con vita e volontà, vai che il sogno sia già realtà. Rossana dai pensaci un po' tu, perché così non se ne può più, sappiamo che non ti arrendi mai, e provi e riprovi finché ce la fai, rossana il tuo cuore. Colpita! In questa avventura un segreto c'è, ma nessuno al mondo sa qual è. In questa avventura un mistero c'è, e vorrei scoprirlo assieme a te. Ci sono tutti i migliori nella squadra del cuore, tanti grandi campioni, e non sono colori. Io il calcio non andavo. Oh. E' ancora un mio, sguoni furbi e sorridenti per di più, che convoltate a contendale, e grande rivale, della legge universale. Video finito ragazzi, finalmente l'ultima, la stavo sbagliando ma solo perché io conosco la versione integrale. Comunque spero che vi siate divertiti a vedermi fare la scema su queste canzoncine. Spero di avervi dimostrato il mio talento mnemonico per quanto riguarda le sigle dei cartoni animati. Provateci anche voi, vi lascio qua sotto il link in descrizione. Lancerò ovviamente il tag, i più don't sing you lose, e da lì potrete utilizzare appunto l'hashtag per mandarmi le vostre cose. Noi ci vediamo con la prossima challenge il 15 marzo, mentre il prossimo video uscirà lunedì 17 febbraio con Danza con Gio. Ciao!